Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute. Allora, sono in compagnia di due professori pensatori che conoscete bene, il professor Federico Vercellone e il professor Remotti, e parliamo di Filosofia del tatuaggio, che è un libro uscito per Bollati Boringhieri, del professor Vercellone, e abbiamo qui un'autorità dell'antropologia che ci aiuta a ricostruire anche un po' la storia del tatuaggio, quindi facciamo sia filosofia che storia. Io sono una giornalista della stampa, mi chiamo Simonetta Shandivashi, allora cerco di abbassare il livello. Allora, l'analisi, questo studio del professor Vercellone, io devo dar, ho difficoltà a dargli del tu, abbiamo deciso che ci diamo del lei, ma io faccio fatica, non lo so. Facciamo, diamoci del tu? Ci diamo del tu? Ok, diamoci del tu, vabbè. Soltanto che io sono meridionale e faccio fatica a dare del tu a un professore, ma adesso ce la farò, ci proverò. No, allora, è un saggio sul tatuaggio. Chi non è tatuato, la sottoscritta, secondo me, è anche un po' dei presenti, però effettivamente ci sono in giro molte persone tatuate. È una cosa che sembra un fatto di moda, in realtà il tatuaggio, come spiega benissimo il professore, c'è sempre stato, quello che io noto ultimamente è che il tatuaggio è crescente, nel senso che le persone che sono tatuate a un certo punto tendono a coprirsi di tatuaggi e ho sempre immaginato che fosse una cosa legata all'esperienza, no? Cioè a un certo punto è successo che è stato deciso, non lo so, ma è successo che tutto quello che ci segnava doveva finire sulla nostra pelle e peraltro è per restare impresso, no? Per dimostrare che c'era stato, il che è interessante perché invece poi la pelle con i tatuaggi fa un'eccezione a quello che di solito fa la pelle, perché non assorbe. Invece quando tu pensi alla pelle, no? È qualcosa che assorbe, invece il tatuaggio non scompare mai, a meno che non si decida di operare per rimuoverlo. Però la riflessione del professor Vercellone, che è ovviamente molto più profonda della mia, è una riflessione innanzitutto sull'identità e in particolare sulle comunità. E mi sembra che sia questo uno dei punti centrali del suo lavoro. Perché non riusciamo più ad essere società, ma siamo solo micro comunità che però non trovano un punto comune? Per la stessa ragione per la quale ci tatuiamo tantissimo e cioè che non ci riconosciamo se non nella nostra singolarità. Ciascuno di noi ha la sua identità e la sua verità e pretende di non trovarla nel racconto degli altri, ma di dirla da sé. Per cui tutto quello che è una parte della filosofia, io penso sempre a Cavarero, che è stata una mia fissazione, quando lei diceva ci riconosciamo nel racconto dell'altro e l'altro che ci dice chi siamo, sparisce in realtà in questo gioco del tatuaggio, perché col tatuaggio io ti dico chi sono e ti dico che cosa mi è successo, sono in quello che mi è successo. Quindi professore, io vengo alla prima domanda. Cosa ci dice rispetto alla domanda sempre aperta sull'identità, che mi sembra che sia il nuovo mistero del nostro tempo, il nuovo grande interrogativo del nostro tempo? questo bisogno di scriversi, disegnarsi addosso. Grazie infinito di questa presentazione, grazie infinito della sua presenza e della presenza del professor Remotti, grazie al pubblico e grazie al circolo. Effettivamente è un libro strano perché un libro su tatuaggio sembrerebbe più un libro da antropologo, da sociologo, che lo scriva comunque uno studioso di estetica, è più singolare, insomma. Però è un libro che è nato dall'idea di, per l'appunto quello che diceva prima Simitaccio Divaci, di una crisi sostanziale dell'identità nel mondo contemporaneo o nel mondo globale e dall'idea parallela secondo cui mancano quelli che normalmente erano stati dei simboli universali, non so, tipo Musil quando racconta l'uomo senza qualità che il ritratto di Francesco Giuseppe compariva in tutti gli uffici dell'impero. Era un simbolo di unità, millenaria, plurimillenaria. Quel viso non era il viso espressivo di una persona, era un viso simbolico che condottava l'identità di un impero composto di molte, molte popolazioni, di mille identità diverse, è stato anche il momento di maggiore integrazione del mondo ebraico all'interno come dire, sia dell'impero sia in generale dell'Europa, era l'unità del molteplice, era ciò che noi chiamiamo universale ma incarnato fisicamente. Così pure come dire nell'impero romano da altri punti di vista c'erano altri trascendentali figurativi, tipo la concettura dell'imperatrice riprodotta sui mosaici era la moda del momento. Tutti, sì, signori di un certo livello dell'impero tendevano ad adottare questa concettura. Ora, l'idea da cui il libro è nato era che in realtà la globalizzazione ha prodotto un movimento strano. cioè è vero che siamo tutti connessi gli uni agli altri che in ogni momento abbiamo possibilità di parlarci, di dirci delle cose private, pubbliche, con un dislivello che è sempre minore tra il pubblico e il privato. Cioè, sulla rete passa esattamente di tutto e quasi tutto diventa consentito a parte da alcuni modi, temi che, come dire, sono quasi a livello diciamo penale ma insomma per tutto il resto a seconda di è tutto molto non sé ed è tutto molto semi consentito più che consentito. Non sai esattamente cosa sia consentito cosa non sia consentito cosa sia legale cosa sia sai cosa è legale ma non sai cosa è cosa sia come dire cosa faccia parte del modo d'essere di una certa società che rispetta certi costumi che vengono continuamente come dire trasgrediti un salotto normale un salotto del 700 se ti vedi che so io anche semplicemente qualsiasi infil storico hai una chiara idea dell'etichetta lì non ce l'ho più allora in qualche modo hai una caduta dei trascendentali non solo di quelli grandiosi religiosi eh secolarizzazione crisi della eh della delle diverse confessioni religiose chiese sempre più vuote e tutta una serie di cose di questo così ma anche crisi dei modi di fare di essere crisi dei costumi mancanza quindi di un orientamento generale più che universale se volete allora tutto questo produce eh sempre di più un senso di disorientamento anche i luoghi più abituali no? eh diciamo quelli frequentati da tutti aeroporti luoghi pubblici uffici tutti quelli che Eugè ha definito non luoghi sono fondamentalmente luoghi anonimi quindi come dire hai una caduta dei trascendentali una funzionalità dello sviluppo che produce anonimità e una crisi dell'identità che diventa sempre più forte che diventa una sorta di valore più che universale di rassicurazione individuale cioè si tratta di eh affermare che almeno per certi aspetti siamo quella cosa lì e non siamo altro e che questo è inestirpabile questo è un elemento mentre come dire l'impero austro-ungarico non moriva con Francesco Giuseppe poi è morto con la morte di Francesco Giuseppe ma teoricamente non muore con la morte dell'imperatore ecco i simboli che portiamo addosso a noi sono simboli che moriranno con noi e sono esattamente noi eh appartengono esclusivamente alla nostra personalità sono simboli autentici più che simboli veri non sono simboli universali eh simboli universali sono simboli veri in quanto condivisi da tutti questi sono simboli autentici esprimono noi stessi ed esprimono quello che è stato spesso definito come una forma di relativismo del mondo moderno o del mondo tardo moderno no? eh tante volte anche da parte di vari pontifici poi ben detto decimo sesto no? ha attaccato il relativismo nichilistico del mondo contemporaneo eh in realtà l'impressione che io ho per meno come osservatore di un paesaggio non come non sulla base di come osservatore di certi comportamenti sociali o serve più l'impressione che non è vero che ci sia relativismo o l'impressione che ci sia una sempre maggiore eh e perentoria affermazione di individualità molteplici le quali non riescono a trovare un terreno comune di dialogo ma questo non è relativismo è affermazione di una fede no? che poi la fede possa essere eh quella eh come dire in una squadra di calcio per cui ti identifichi quasi fosse tutta la tua vita che sia quella per eh qualche credo esoterico che sia una fede più come dire più colta una passione per Martin Heidegger per dire ecco non ha molta importanza l'importante è che si tratta di tutte connotazioni che eh ti conducono a dire chi sei e a difenderti dall'insicurezza della comunicazione generale a ritrarti dunque la cosa che mi colpiva del tatuaggio era infatti che in realtà non viviamo più in una società questo è il problema noi non siamo più in una società e questa è la crisi della democrazia siamo un insieme di comunità le quali ehm compongono un mondo globale che sono però relativamente isolate l'una dalle altre e si comunicano dei messaggi che fondamentalmente non sono partecipati sono dei messaggi nei quali puoi riconoscerti o non riconosci ma fondamentalmente sono dei messaggi anaffettivi no? anche quando sono trittoricamente affettivi oppure esageratamente affettivi e quindi un mondo che è sempre più fatto da gruppi da mini in cui come dire da da villaggi tribù eh in cui c'è una prima pelle che è la tua quella su cui ti segni su cui ti metti la zampetta del cane su cui ti metti il nome della persona che ami su cui ti metti il nome del nuovo Dio che hai scoperto ma poi in realtà c'è una seconda pelle che si allarga oltre la prima che è una pelle altrettanto sensibile e che è quella eh dei murales della eh quella che ricorre sempre di più nelle periferie cioè quella di attarsi della pelle ai confini della comunità che tu stai vivendo e che sta oltre e al di quadra della società no? per cui come dire c'è un ritorno all'amore per il villaggio indiano all'idea del concludersi un ortus conclusus che è quello della tua vita in cui circola tutto i tuoi sentimenti il tuo modo di essere il tuo modo di vivere no? da cui e che ti rassicura che è linfa vitale che è linfa organica siamo tornati dalla società universale a un mondo fondamentalmente organico la scomparsa del nudo è abbastanza interessante da questo punto di vista qui concludo il primo giro perché nudo è sempre stato dalla come dire dalla cultura classica quella classicistica l'idea che fondamentalmente tutti gli uomini se tu li spogli cioè se prescindere da usi costumi personali dalle loro culture sono uguali gli uni con gli altri infatti non a caso cultura classicistica era la cultura rivoluzionaria la cultura eglomeristica era Napoleone stesso vestito da stoico non era nudo ma insomma c'era l'idea che il mondo greco fosse un ideale di democrazia no? tutte le decorazioni anche del centro di Berlino l'ha mostrato l'Ostberedekamp in Berlino città mediterranea sono testimonianze di una cultura classica che è una una sorta di vocazione alla all'illuminismo all'uguaglianza degli uomini che sono degli un soggetto universale al di là delle contingenze culturali oggi tutto questo si è perso siamo sempre dentro delle comunità abbiamo difficoltà a vivere la democrazia siamo finiti dentro i populismi dentro le identità grevi e gravi e non riusciamo più a capire come ripartire da qua da questa serie di handicap ecco allora come dire il tatuaggio è interessante in quanto tale ma è interessante anche in quanto sintomo di tante tante altre cose che qui ho cercato di accennare grazie grazie a lei professore mi riaggancio professore Motti al corpo alla questione del corpo e del nudo perché è affascinante questa specie di anzi non specie questa convivenza che c'è nel nostro tempo la scomparsa del nudo da una parte perché poi effettivamente il corpo tatuato è un corpo che si fatica a riconoscere come nudo anche se è nudo è vestito è segnato e poi però quindi questo coprire perché c'è questa tendenza a coprire il corpo con la verità ulteriore scritta e decisa da chi si fa tatuare dall'altra però c'è un forte bisogno di eliminare dal corpo tutte le sovrastrutture quindi di spogliarsi dei modelli di riprendere l'autenticità che il professor Vercellone peraltro contesta visto che viviamo in un momento in cui l'autenticità viene confusa con verità allora com'è possibile visto che appunto parliamo di identità che queste due cose convivano da una parte mi segno ed elimino la nudità e dall'altra invece è proprio la nudità dai modelli e quindi l'autenticità pura il puro me il puro corpo che rivendico beh intanto buonasera a tutti grazie per quest'invito però prima di arrivare a rispondere posso fare una domanda io all'amico Federico poi cercherò di rispondere non voglio ma Federico ma noi ci siamo parlati no in questo periodo però però non mi hai mai detto e io adesso te lo chiedo pubblicamente com'è che nasce qual è stato lo spunto diciamo così per arrivare cioè a scrivere un libro appunto sul tatuaggio e partendo dalla considerazione che del resto tu stesso nel libro metti in evidenza partendo dalla considerazione che la filosofia ha trattato quasi nulla quasi per niente no il tatuaggio il tatuaggio non è un argomento tipicamente filosofico l'hai detto anche prima è una roba più se vuoi da sociologi se si parla del tatuaggio nella nostra società antropologi se andiamo a guardare le altre società eccetera eccetera ma non da filosofi tanto è vero che tu citi due filosofi poi ci torneremo su quelli perché cioè Kant da una parte Hegel dall'altra eccetera ecco a me ripeto non voglio va benissimo io sogno che risponda perché voleva nobilitare Fedez vediamo che cosa ecco qual è stato lo spunto iniziale ecco se si può dire perché può darsi anche che sia una cosa che non puoi dire o no no ma se c'è uno spunto casuale se c'è uno spunto casuale che era stata una richiesta diciamo ti interesserebbe scrivere un libro così però in realtà l'altra questione che mi interessava abbastanza era quella che Simonetta accennava prima cioè l'idea che in fondo quello che si palesa si manifesta sempre di più è l'idea che appunto soggetto nudo nel senso come dire ha diretto impatto col mondo regge poco e che in realtà questo soggetto rischia prima un po' di sgretolarsi che questo sia una grande crisi dell'illuminismo e che in realtà la gente ha bisogno di sapere da dove proviene a un certo punto se lo chiede a un certo punto ha bisogno di sapere da dove viene e non ma ha bisogno di qualcuno che glielo racconti non che te lo racconti da solo cioè ha bisogno di essere immersi in una storia ha bisogno di un epos e allora comincia a crearsi un sacco di piccoli epos e questa è una domanda più vicina all'estetica che è la materia che ti ho detto io filosofia in fondo l'arte ti racconta sempre una certa storia c'è quel racconto di Burger molto bello quando la storia della civiltà greca quando i mongoli scappavano sempre che non volevano combattere quei persiani a un certo punto i persiani dicono se siete dei vili perché non combattete e allora dico ma siamo un popolo nuovo cosa se gli importa cambiamo no pascolo cambiamo zona ma lo facciamo d'abitudine però attenzione se verrete a toccare le nostre tombe noi vi attaccheremo senza l'origine un soggetto non sta non sta in piedi proprio allora era questo che è da lì che ho ripreso quindi diciamo così il tatuaggio come uno dei fattori degli elementi diciamo così di questa ricerca di diciamo di identità visto che avete usato già questo termine è questo che vuoi dire identità narrata di una storia insomma ho letto questo libro e mi ha colpito ecco a proposito del nudo certo quando si parla di tatuaggio certamente c'è di mezzo lo facendo del nudo e questo non soltanto nella nostra società ma un po' in tutte le società no e di solito di solito nelle società che studiamo noi antropologi noi troviamo questo tipo di spiegazione a proposito del tatuaggio o di altri interventi sul corpo di nature interventi di natura estetica sul corpo no come possono essere scarificazioni eccetera e cioè e cioè che se non ci si tatua se non ci si incidono dei segni sul nostro corpo ecco saremmo del tutto simili agli altri animali che sono nudi sono nudi e cioè e non fanno nulla diciamo così no per per modificare per modificare la propria epidermide no ok fra l'altro apro una parentesi Federico se 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 ti capiterà di di come io spero di di approfondire no questo questo argomento il tatuaggio se se vuoi ancora procedere ecco io direi uno dei testi più interessanti da questo punto di vista è Darwin Darwin The Descent of Man quindi l'origine dell'uomo c'è un capitolo di un interesse estremo parla anche del tatuaggio non solo del tatuaggio ma parla appunto degli ornamenti il tema dell'ornamento no tu fra l'altro lo tiri fuori qua sempre a proposito poi del nudo no l'ornamento terre diciamo così per dimostrare che non sei del tutto nudo non sei del tutto naturale ma intervieni in modi talvolta dolorosi ecco perché questo è un tema che non abbiamo ancora toccato abbiamo toccato il tema del nudo coprire il nudo eccetera ma un tema importante da tenere presente per il tatuaggio è il dolore perché è vero come dire adesso farsi tatuare con no c'è una macchinetta non si usa questo credo no una macchinetta elettrica con cui e insomma da un po' fastidio ma è una cosa sopportabile ma se adesso facessimo vedere ecco chiedo ai nostri collaboratori potete farci vedere la la numero eccolo qua ecco questo è un tatuaggio un bellissimo tatuaggio vi piace? questo è un capolavoro è un'opera d'arte nel libro di 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 Federico ogni tanto no ci si imbatte in filosofi o o in pensatori o teorici che si chiedono ma è opera d'arte non è opera d'arte beh guardate un po' questo secondo me se non è opera d'arte è questo questo è un tatuaggio maori si chiama moko il moko è appunto un termine per dire tatuaggio appunto tra i maori e per ottenere questo risultato nella società tradizionale dei maori e si interveniva in questo modo c'era una specie di di ago diciamo all'estremità di un bastoncino poi con una sorta di martelletto questo ago veniva immerso in un pigmento in una sostanza colorante e poi con il martelletto tac 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 no voi capite che per ottenere questo risultato ce ne vuole e ci vuole anche tanta tanta pazienza ci vuole anche tanta sopportazione sopportazione del dolore è dolorosissimo guardate guardate questo tatuaggio riempie completamente il volto di questo guerriero questo tipicamente è un guerriero maori mi chiederete ma tutti no soprattutto i guerrieri i guerrieri i guerrieri specialmente diciamo così la classe aristocratica diciamo di questa società mi domanderete le donne le donne un po' di meno le donne venivano tatuate specialmente nella parte inferiore del volto ma per ottenere questo tatuaggio passavano anni passavano anni adesso se io ancora mi concedete ancora un minutino poi anche dieci no 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 perché non voglio ecco nel libro di Federico io ti chiamo così tra amici ecco c'è una citazione c'è una citazione di un grande filosofo di Emmanuel Kant e io non conoscevo questo passo e me lo sono dato seguito e sono andato a leggermi poi l'intero paragrafo dice questo Kant sentite è un po' involuto ma Federico ce lo spiega se del caso si potrebbe adornare un edifizio con molte cose piacevoli piacevoli immediatamente all'intuizione ma cose piacevoli fermiamoci qui se esso non dovesse essere una chiesa lui dice un edificio che non sia una chiesa vabbè la puoi adornare come vuoi no? capisco bene Federico ok prosegue si potrebbe abbellire una figura umana con ogni sorta di disegni e tratti di forme spigliate buco chi sa e regolari come fanno i neozelandesi eccoli qua i neozelandesi con il loro tatuaggio se non si trattasse di un uomo cioè no non si deve fare così cioè questo per per Kant per Kant è qualcosa che non va bene non risponde ai criteri dell'umanità i maori dicevano esattamente il contrario dicevano che con il moco la persona raggiunge la sua completezza la sua vera umanità abbiamo due due visioni completamente diverse opposte domandiamoci ecco in questo libro in questo libro viene fuori no? in diversi punti viene fuori la domanda ma perché perché intanto tanto perché i filosofi trattano così poco appunto di questo no? il tatuaggio eccetera ma viene fuori un'altra questione e e cioè la non solo il disinteresse ma qui come vedete nel caso di Kant la condanna una vera e propria condanna allora sempre se tu volessi proseguire in questo ti suggerirei un libro interessantissimo che è pochissimo conosciuto perché è una cosa di un medico inglese il quale nel 1650 pubblica un libro intitolato Antropometamorphosis un titolo bellissimo e in questo libro lui cosa fa? fa una specie di carellata una panoramica diciamo così di tutti gli interventi sul corpo da parte delle società primitive selvagge barbare questi sono i termini che usava no? questo medico ma perché lui fa tutta questa questa panoramica? perché vuole far vedere l'obbrobrio l'obbrobrio di questi interventi e lui dice tutto questo tutto questo è condannabile ecco e lui se la prendeva se la prendeva con le signore inglesi diceva esattamente questo con le signore inglesi che si imbellettano un po' come fanno come fanno i barbari quindi tutto un libro tra l'altro io l'avevo ordinato tanto tanti anni fa c'è in biblioteca quindi è visibile insomma e tutto un libro voluminoso e proprio per arrivare al punto di dire no non si deve concludo questo mio intervento dicendo fra l'altro Federico accenna questo e io oltre all'accenno sottolineerei ulteriormente noi proveniamo da una cultura molto 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 condizionata dal Vecchio Testamento dall'Antico Testamento e nell'Antico Testamento Federico tu citi il veritico no? c'è quella famosa frase in cui esplicitamente viene condannato viene condannato proprio il tatuaggio ecco non dovete no? eccetera ma perché? chiediamoci perché perché questa condanna e la risposta è la risposta è chiara ed è importante questa risposta è che noi siamo stati fatti dalla divinità direttamente dalla divinità a immagine e somiglianza della divinità quindi se tu intervieni sul corpo sfiguri quello che è invece un prodotto divino noi siamo un prodotto della creazione divina così come siamo fatti nella nostra nudità ok? noi siamo fatti così e e quindi intervenire intervenire con tatuaggi scarificazioni tutto questo è veramente un sacrilegio e questo arriva praticamente appunto fino a fino a canto cioè sentiamo ecco questa boh io mi fermerei qui andrei avanti grazie professore rispetto alla condanna che adesso naturalmente non c'è più insomma vi ricordo che fino a qualche anno fa ai commessi era sempre e alle persone che in generale hanno rapporti diretti con il pubblico era sempre consigliato di non tatuarsi le mani adesso non c'è più questo pregiudizio però professore che cosa ci dice il disegnarsi il corpo in un momento appunto in cui non è più neanche un modo per come dire differenziarsi visto che lo fanno tutti ecco che cosa ci dice lo scriversi addosso rispetto alla scelta cioè che cosa l'avrà studiato quello che l'avrà visto avrà notato quello che adesso le persone si tatuano addosso perché lei dice delle cose molto interessanti rispetto alla relazione che noi abbiamo in questo tempo con la realtà e lei dice non è vero che siamo affondati nel nichilismo lo accennava anche prima perché c'è invece da una parte un bisogno di immaginare una nuova realtà però dall'altra anche un desiderio di sentire la realtà visto che parlavamo tra l'altro di dolore no ecco il tatuaggio dà dolore e in quel senso il l'intervenire sul corpo è anche un modo di sentire l'impatto con la realtà sono proprio tutte domande for for dann grazie grazie mille ma grazie tanto a entrambi c'è una vado nell'ordine Francesco si naturalmente Darwin è vero io non l'avevo citato non ci avevo pensato di citarlo però il tema dell'ornamento perché questo è un tema affascinantissimo ed è un tema che compare in un libro che io cito poi forse non abbastanza che è quello di Hans Prinzorn sulle immagini dei malati di mente questa è una storia affascinantissima di questo psichiatra perché lui è un signore che si mette a studiare psichiatria perché la moglie diventa schizofrenica e quindi per riuscire a capire la natura di questo dramma e riuscire a intervenire positivamente su questo dramma si mette a studiarla insomma e raccoglie il più grande repertorio di disegni di persone malate di mente che è custodito a Heidelberg ed è un magnifico archivio vengono fuori delle cose abbastanza interessanti vengono fuori uno che ad esempio alcuni di queste personalità non erano in grado di dire quando a parole quando avevano cominciato a avere delle apparizioni dei doppi delle figure disturbanti però riuscivano a disegnarle e in quel caso lì riuscivano a dirlo cioè quindi c'era un elemento diagnostico che era molto interessante cioè c'è un affiorare di un altro tipo di linguaggio che viene dal profondo e che il linguaggio verbale non riesce ad esprimere e che viene da così da un'intensità diversa no? e d'altra parte uno potrebbe anche ricordare che no? quello che Freud scrive a Ferenczi da San Pietro in vincoli dicendo Mosè sono io ecco quindi c'è qualcosa di no? di una potenza dell'immagine simbolica dell'immagine originaria dell'immagine capostipite dell'immagine che è evento è legge e tutto questo penso poi disse un'altra cosa che è abbastanza significativa perché in qualche modo lui completa a modo suo cioè senza dirlo la topica delle pulsioni di Freud dicendo che in realtà c'è un originaria e naturalmente va detto che appunto in tutta la sfera soprattutto 800 primi anni 900 l'interesse dei psichiatri va l'ombroso fino a Prince va fortemente sulla questo tipo di personalità l'ombroso criminali e malattie di mente tatuate no? però Prince al contrario di l'ombroso invece di dire tutto questo è la caratteristica di una personalità patologica la quale quindi si segna il corpo perché è un individuo che tende a regredire verso fasi primitive è una forma di atavismo che ricompare questo potrebbe andare d'accordo con me dicendo guardate che in realtà c'è una pulsione formativa che sta in tutti gli esseri umani ecco e questa pulsione formativa è una pulsione della decorazione ed è una pulsione della decorazione perché nella decorazione che tu la metta sull'ite o la metta sul muro in fondo trovi qualcosa simile al ritmo originario un ordine originario semplicemente perché continui a ripetere lo stesso motivo all'infinito anche e questo è come dire garantirti che intorno a te non c'è il caos ma c'è un ordine da questo punto di vista anche in questi elementi originari torna l'elemento del tatuaggio scudo no? ti tatui perché vuoi ritrovare una regolarità di fronte a un'ansia di caos che ti sta travolgendo ecco non so se ce l'ho risposto mi sono avvicinato vagamente mi ringraziamo ma io sì avevo notato questo nel tuo libro come lo chiama Impulso sì la pulsione formativa ecco e io mi sono in quel momento mi sono detto ma vabbè ma come come spiegare allora questa pulsione no? e a me è venuto in mente scusa io continuo a a tirare fuori gli autori che se noi prendiamo picco dalla mirandola dei dignità te hominis 1486 se non va zerato picco dalla mirandola e prima abbiamo citato abbiamo citato la Bibbia no? la Bibbia che dice cosa che dice la divinità ci ha fatto a sua immagine e somiglianza no? e siamo a posto non abbiamo bisogno anzi anzi se interveniamo come come fanno i maori sfiguriamo è un oltraggio un prodotto che invece che invece addirittura è divino picco dalla mirandola dà una versione completamente diversa non so se qualcuno così per caso si ricorda cosa diceva picco dalla mirandola di dignità te ominis lui diceva che la divinità dopo avere creato il mondo a un certo momento diceva sentiva l'esigenza che ci fosse qualcuno che ammirasse tutto questo ben di Dio è il caso di dire no? ok? e allora ecco che dà luogo eh da 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 origine dà origine alla creatura che siamo noi agli esseri umani solo che e questo fa un po' ridere no? solo che la divinità non aveva più a disposizione prototipi non aveva più a disposizione modelli come come lo faccio questo nuovo essere? non ne aveva più a disposizione povera divinità era rimasta senza così come non c'erano più posti nel mondo dove collocare questo nuovo essere e allora come io penso voi vi ricordiate non vi ricordate no? la divinità allora ha un colpo di genio prende questa nuova creatura e dice ecco facciamo una cosa ecco io non ti ho creato così o cosà ma tu stesso devi diventare cito in latino perché plastis et fictor di te stesso devi diventare scultore e come si può dire vabbè insomma foggiatore ecco ti devi foggiare da te stesso e poi picco continua noi l'essere umano è fatto di immagini avventizie che vanno vengono e così via questo impulso questo questo che dicevamo prima ecco picco ci dà una risposta picco ci dà questa risposta che oltretutto è una risposta che si accorda molto bene con un certo modo di di vedere che troviamo in antropologia sia nell'antropologia culturale sia nella 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 bio antropologia cioè che cosa è l'essere umano come un essere come un essere qualcuno direbbe incompleto come un essere carente fra l'altro in filosofia troviamo filosofia tedesca del novecento e troviamo tutta una lunga tradizione di no che ecco e quindi questa necessità necessità da parte di questo di questo essere di dare forma a se stesso quindi siamo esattamente picco in fondo si sposta esattamente dalla parte dei maori lui non lo sapeva ma certamente questo suo modo di impostare la cosa si accorda benissimo con quanto dicono i maori con quanto dicono gli abitanti delle isole marchesi e così via e cioè per diventare umano devi foggiare te stesso in qualche modo poi i maori fanno così i caduveo i caduveo dell'amazzonia facevano in un altro modo i caduveo vi racconto questo i caduveo dell'amazzonia anche loro anche loro avevano utilizzavano il tatuaggio poi a un certo momento chissà perché hanno abbandonato la pratica del tatuaggio e si sono dati invece a quest'altra pratica quella cioè di disegnare fare dei disegni sul volto ed erano le donne a fare questo i disegni sul volto con una caratteristica che tutti questi disegni fra l'altro studiati da un nostro come dire compatriota come si dice Boggiani uno che era di Novara alla fine dell'Ottocento lui si trovava esattamente tra i caduveo e abbiamo appunto la documentazione di Boggiani ecco su queste su queste su queste figure interessantissime dicevo la caratteristica di questi disegni era la assimmetria cioè il nostro volto è normalmente simmetrico eccetto che ci sia qualche problema ok e con loro con i loro disegni invece davano luogo a delle assimmetrie un po' per dire gli esseri umani non sono perfetti nonostante tutte le apparenze e noi mettiamo in luce la simmetria ecco voglio dire questo io a leggere questo libro pur non essendo un esperto di tatuaggi di altri cioè un po' me ne sono occupato ma non è che sia proprio però io un po' ho avuto questa impressione che in antropologia noi riusciamo a studiare o siamo riusciti a studiare perché poi le cose cambiano le società cambiano quindi la globalizzazione riguarda anche altre società eccetera dicevo che noi troviamo in queste società vere e proprie culture del tatuaggio se si tratta di tatuaggio di scarificazioni se si tratta di scarificazioni dei disegni no facciali se si tratta cultura intendo dire un pensiero un pensiero coltivato un pensiero condiviso un pensiero approfondito questo mi piace ecco questo lo potrei vorrei trasformare in una domanda che rivolgerei appunto all'amico Federico no non hai un po' l'impressione che come dire certo con questo libro per esempio tu contribuisci a trovare un senso questo comunque è il tuo obiettivo trovare un senso a questa pratica e dici ma come mai a un certo momento viene fuori questa pratica del tatuaggio no che prima magari non c'era o c'era poco era assai più marginalizzata ok adesso invece ecco trovare un senso trovare ecco però io ho l'impressione ho l'impressione che che non ci sia una cultura del tatuaggio c'è una pratica del tatuaggio ma una pratica diciamo così un po' un po' povera da un punto di vista culturale dico questo perché io ricordo una una ventina di anni fa e quando appunto mi occupavo di interventi estetici sul corpo eccetera tra cui il tatuaggio avevo seguito alcune alcuni miei studenti studentesse che avevano fatto alcune tesi sui il suo tatuaggio qui nella nostra società quindi a Torino in Piemonte eccetera no e loro avevano intervistato sia i tatuatori e sia i tatuati eccetera ecco la sensazione la sensazione che avevamo era che effettivamente le motivazioni erano più di tipo socio-psicologiche che non culturali non so se mi spiego ecco e allora come dire va benissimo è importante non è che però però ecco mentre invece in questo tipo di società ecco troviamo troviamo una vera e propria cultura del tatuaggio vi porto un esempio un esempio ecco le isole marchesi le isole marchesi sono un caso classico del tatuaggio anche perché anche perché come si chiamava mamma mia l'esploratore Cook ecco no Cook era arrivato di fronte alle isole marchesi stanno per per approdare e lui vede lui i suoi marinai vedono schierati no sulla 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 spiaggia no numerosi abitanti di queste isole e loro pensavano che fossero vestiti poi si avvicinano no sbarcano e non erano vestiti erano nudi ma in realtà erano tatuati dalla testa ai piedi e infatti questo è stato uno dei primi forse il primo caso diciamo così di scoperta del tatuaggio che ha avuto poi in occidente quando Cook ritorna insomma è venuto fuori una cosa che ha colpito parentesi quadra fra l'altro il termine tatuaggio viene proprio da questa fonte qui cioè da Cook Cook in quale lui in inglese tattoo tatoo no e e questo termine riproduceva un termine polinesiano simile a questo no che che è un omotopeico è il suono è il battito del martelletto ta 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 ecco questo voleva dire no concludo questo questo esempio di cultura del tatuaggio questa società dell'isole marchesi è stata studiata approfonditamente da questo punto di vista cosa voleva dire il tatuaggio no un tatuaggio completo essere umano doveva essere devi essere tatuato eccetera e quando muori pensate un po' quando muori le donne si mettono lì e tolgono la pelle tolgono il tatuaggio perché perché pensavano eh voi direte sono tutte storielle però è cultura è immaginazione è idea è pensavano che gli esseri umani dovranno poi andare in una sorta di al di là diciamo presso le divinità e le divinità non sono tatuate solo gli esseri umani sono tatuate e allora per poter stare con le divinità devi sottoporti da morto naturalmente a questa ulteriore operazione di detatuazione ecco piccolo esempio ecco di di cosa vuol dire cultura del tatuaggio cioè una società che riflette una società che immagina una società che cerca di trovare appunto dei significati dei fondamenti insomma a questo tipo di pratica e l'ha sollecitata su talmente tanti punti che non mi permetto di aggiungerne altri e le lascio le parole se no se no è un esame grazie infinite no sono davvero tanti grazie sono preziosi e importanti e sono tante cose anche di cui non ho parlato però ecco mi viene in testa due cose uno quando parlavi che non riguarda il senso proprio il tatuaggio ma ci si avvicina molto e l'elogio del macchiaggio di Baudelaire no perché lì trovi qualcosa che in fondo è all'origine del tatuaggio moderno e si differenzia da questo tatuaggio di cui parli tu almeno così a occhio nel senso che lui dice la donna deve truccarsi e poi torna come dire nella discesa del trucco a una forma di atavismo e dentro questa forma di atavismo c'è come dire il volto totemico della modernità cioè l'idea che le persone tra l'altro trucco si rendano uguali l'una alle altre e in questo modo si sacralizzi questa dimensione sacrale del tatuaggio è come la dimensione sacrale come dire della Parigi di Baudelaire no che come dire per un verso è questa vita che è totalmente dispersa è sotto no contiene il regno dei morti e il regno di coloro che quindi si sono resi ognuno uguale all'altro hanno trascorso la vicenda terrena nelle loro avventure nelle loro differenze nelle loro come dire nel loro essere variegato e infinito no e e sono tornati all'origine che è una quello e questo sembrerebbe poter essere molto il modello di tatuaggio che tu richiamavi cioè il modello di tatuaggio originario laddove nel modello di tatuaggio contemporaneo sembra esserci qualcosa che non è una cultura del tatuaggio ma no ma è una esigenza di libertà che viene dal tatuaggio non di uniformità cioè in questo caso le persone vogliono essere e dare testimonianza pubblica del loro essere diverse le une dalle altre di poter esercitare attraverso questo gesto la propria libertà di poter essere difformi rispetto al corpo sociale e grazie a questa difformità di poter soddisfare l'esigenza della loro unicità e peculiarità e quindi si rendono preziose non si rendono in questo caso mentre nel caso che dicevi tu il tatuaggio è stile no in questo caso il tatuaggio non è stile ma è un'eccezione ripetuta è infinitamente ripetuta scusa posso scusami ecco guardate questo tatuaggio qua il moco è una cosa che mi sono dimenticato di dire che però va a integrare un po' il discorso che abbiamo fatto adesso ogni persona era tatuata in modo singolare cioè lo stile è quello se tu vedi lo potete vedere anche su google se voi andate no vengono fuori queste cose ormai sono tutte vedete che lo stile queste volute eccetera eccetera ma ma nessun tatuaggio era uguale identico all'altro cioè e quindi era un modo per accentuare come dire la personalità ecco no dell'individuo scusa sì 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 quindi tatuaggio come strumento per sì quindi modereresti l'aspetto di quello che dicevo io sì forse però resta almeno penso una forma di stilizzazione dell'individuo che è abbastanza sì si ripete secondo un partner no sì lo stile è quello certo lo stile su questo non c'è mentre qui non hai un partner hai una serie di parte molto diverse addirittura c'è un tatuaggio ad esempio dei criminali di Dombroso hai uno stile piuttosto monotono in Giappone come sapete il tatuaggio è proibito cioè anche lì non puoi accedere alle sauna a certi luoghi pubblici se sei sattuato perché e sì come dire e sì perché tu sei un drop out non sei al di fuori della compagine sociale allora tutto questo ambito del tatuaggio quando poi viene recuperato socialmente comunque ti riporta a una dimensione che è moderna quanto l'altra nel senso che tutta a partire da 800 ci sono due movimenti che sono totalmente opposti cioè uno che so io partire dalle art and craft di Morris a l'idea che viviamo in un mondo troppo di forma e che c'è bisogno di uno stile unico no? per cui ad esempio Morris comincia a lavorare per togliere le insegne pubblicitarie della città perché la rendono troppo di forma guastano lo stile quindi la modernità è troppo diversa da se stessa dall'altra parte però c'è anche la spinta la spinta contraria l'idea che in realtà il mondo moderno è un mondo che rende tutti troppo omogenei troppo simili ognuno agli altri e da questo punto di vista e torniamo più dentro al discorso di questo tatuaggio più che del tatuaggio cui giustamente facevi riferimento cioè l'idea di non essere schiacciati da questo mondo ma di poterci resistere tant'è vero che poi in fondo il tatuaggio non solo attraverso il dolore e il dolore è una dimensione singolare in qualche modo cioè probabilmente ripete in maniera come dire poco consapevole e neppure quotata l'idea però del sacrificio cristiano cioè che il dolore è la verità e della vita ma probabilmente tutto questo elemento non è eccessivamente consapevole però è vero che nell'elemento del dolore c'è anche l'esperienza che non è il tatuaggio però che appartiene a gruppi che come dire praticano entrambi o possono praticare entrambi cioè di di quelli che fanno hanging che si appendono con degli uncini no? allora lì dentro in effetti c'è la descrizione che a me ha compito molto poi non ero tanto avanti perché come dire non simpatizzavo ecco mi faceva un certo così che la questione del dolore fino a un certo punto se tu eri sti appeso è dolorosissimo poi è una tale scarica di adrenalina per cui esattamente Dionisia coniciano cioè tu diventi empatico col mondo e non lo senti più il dolore a questo punto hai di nuovo però un'esperienza che riguarda l'unicità eroica del soggetto il tatuaggio moderno è qualcosa che riguarda l'unicità eroica e la solitudine del soggetto moderno che sfida il mondo a costruire la propria verità no? mi sembra che questo forse lo renda al di là dei modelli o dei partner stilistici che possono essere ripetuti ma non è detto che la citazione ripeta la cultura originaria no? probabilmente la stravolge con questo e magari è simile sì sì ma io non so se o se volete qui ci sono tatuaggi abbiamo parlato di tatuaggi e subito dopo volendo se se siamo d'accordo potremmo vedere due immagini di scarificazioni non le volete vedere? no? o sì? allora no tenete presente una cosa perché scarificazione? no 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 ecco dopo ecco fermiamoci qui qui siamo in Nigeria qui vedete una donna che è incinta come vedete ha il ventre scarificato scarificato cosa vuol dire? vuol dire che questo non è tatuaggio perché sulla pelle nera non si può ottenere il tatuaggio tatuaggio hai bisogno di una pelle chiara per poi no lavorare con con la con con delle sostanze coloranti no? che vanno sotto l'epidermide no? tatuaggio è questo e con la pelle nera non allora ecco la scarificazione invece cosa sono? sono delle si 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 provocano dei tagli nella cute si mettono poi delle sostanze dentro il taglio e poi si quando si cicatrizza il tutto la cicatrice rimane rilevata rimane in rilievo e si ottiene appunto la scarificazione ecco questo è un esempio e subito dopo un altro ecco è un capolavoro guardate un lo sapete questa questa immagine qui tanti anni fa avevo fatta vedere ad un chirurgo plastico colui che aveva fondato la chirurgia plastica qui a Torino e aveva organizzato un un convegno tra chirurghi plastici sulla cicatrice e a me aveva chiesto aveva chiesto dico ma lui mi fa ma società in cui in cui le cicatrici dico sì certo le scarificazioni e lui mi dice ma questo questo questi qui questi qui sono dei chirurghi di una bravura incredibile questa è lo so che a Kant tutto questo non andava non andava bene però penso che insomma noi possiamo anche andare no non andava non andava non andava non andava